Allora, aspetta ma che opzioni, chat live, ok, perfetto, ok, ci siamo, mi metto al centro, è stortino, una c'è, allora, ragazze, ok, non sono più abituata a fare le live, oltretutto è tutto cambiato, non so, speriamo di riuscire a salvarla, ciao Lucilla, ciao Daniela, ciao Carmen, bene, funziona, funziona, dai, alla grande, ciao Nadia, bene, bene, Allora, è tutto cambiato, l'impostazione delle cose, dove premere, bottoni, ciao Enrica, è tutto cambiato, volevano farmi fare una roba verticale, ho detto no, noi qui siamo su YouTube, facciamo le cose orizzontali, Ciao Valentina, uh, Luciana mi ha messo sullo schermo della parrocchia a Lugano, ciao ragazze, ciao alla Svizzera, alla Svizzera, tutto, Amiche, amiche, no, questo lo mettiamo via, scusate, mi allontano, ciao Cinzia, ciao, allora, bene, sono contenta che, allora, ragazze, mettetemi un po' di pollicioni, vi prego, ciao Donatella, perché vedo che siamo tipo 18 e un pollicione solo, due adesso, ciao Angelica, ciao Adriana, bene, sono molto, molto contenta che ci siamo, siamo un po', cominciamo a crescere, vediamo un po', e guarda la nipote preferita, cara Angelica, ciao Rosanna, di nuovo Luciana, Carmen, bene, ragazze, sono contenta che ci siete tutte, ditemi come devo stare, se devo stare in mezzo, se devo stare di lato, da una parte o dall'altra, se vedete delle robe che scorrono sullo schermo, ditemi, ditemi voi dove mi devo posizionare, così lo farò, come sempre, le cose sono un po' ballerine, no, qua, ok, così è perfetto, bene, Lucilla, sono contenta, Angelica, hai visto che bel taglio di capelli, me l'ha fatto Riccardo, sono perfetta, molto bene, bene, così benissimo, ottimo, ottimo ragazze, allora, ragazze, è una diretta stasera perché non sono riuscita a filmare un video per il canale, ma non perché non abbia lavorato, ma non perché non abbia filmato, anzi, ho filmato tantissimo, ma sono tutti quanti contenuti che ho filmato per quello che riguarda il libro. Ciao Deborah, evviva, adesso c'è anche una moderatrice, quindi possiamo partire proprio in tromba, e quindi volevo un pochettino chiacchierare con voi, così un pochettino a ruota libera, perché mi dispiaceva proprio lasciarvi all'asciutto, questo venerdì ho detto approfittiamo e facciamo un due chiacchiere in diretta e così magari vi posso raccontare qualcosina di quello che sto preparando e magari forse se avete voglia mi potete fare qualche domanda e forse potrei anche sbottonarmi su qualcosa che vedrete il prossimo mese. Ciao Stefania, grazie mille, sei molto gentile, grazie mille. Maggio si sta avvicinando e con lui la pubblicazione appunto del libro che oramai saprete perché magari sugli altri social se mi seguite ve l'ho raccontato in tutte le salse. Il libro come sapete si chiamerà Ce lo mi manca e sarà disponibile all'acquisto il 14 di maggio appunto, che è un martedì se non mi sbaglio. E perché questa data? Perché l'undici che è un sabato ci sarà un workshop barra festeggiamento pazzesco a Trieste nel quale appunto festeggeremo questo evento, questa cosa. E quindi vorrei un po' parlarvene a questo proposito. Dunque intanto della mia scelta di fare un evento, perché l'evento perché è a Trieste, allora e perché ve ne voglio parlare? Allora come faccio ad avere anche questo libro con l'autografo? Allora intanto lo compri e quando ci vediamo ti faccio l'autografo, caro Angelica. E allora questo libro viene fuori da un lavoro davvero tanto lungo, no? È un progetto al quale io ho cominciato a pensare dieci anni fa. Dieci anni fa poi questo, diciamo questo progetto ancora non era pronto quella volta e durante tutti questi anni, continuavo a ripensarci e ripensarci e mi è sempre sembrato una cosa enorme. Poi quattro anni fa complice proprio il canale YouTube perché ho cominciato a parlarne di questo progetto durante il Covid e è venuta fuori proprio una proposta da parte vostra della Big Family. Ma Valentina perché alla fine non ti decidi a fare questo progetto di questo libro dedicato al guardaroba perfetto, ai capi che bisognerebbe avere in un armadio perfetto, no? I capi che possano andare bene oggi come tra molti anni, quindi fatti con delle forme che possano donare alla gran parte delle persone e realizzati con dei punti che possano non stancare, non passare di moda e in dei colori che possano donare e ovviamente poi questa è una parte personale per cui può venire sviluppata da noi in tutti i modi, cioè in modo da adattarsi a noi stesse e insomma tutto questo progetto ha cominciato di nuovo a, come dire, girarmi in testa, no? E alla fine, ma insomma perché no? Buttiamoci, buttiamoci e facciamolo. E ho cominciato a lavorarci, quindi insomma era un progetto comunque che... Qua ci sono persone che si stanno mettendo d'accordo per trovarsi tra di loro, bravissime ragazze, questo è lo spirito della Big Family. No, dicevo, essendo stato poi un progetto portato avanti assieme ovviamente a tutto il resto, no? Per cui ai pattern che continuavo a pubblicare, agli workshop che continuavo a fare, eccetera, eccetera e chiaramente non è stato un libro esclusivo, cioè come dire, la mia mente non si è dedicata esclusivamente a lui e quindi ci è anche voluto tanto. Ci è voluto tanto e io sentivo il bisogno di mettere un punto, no? Mettere un punto che fosse la celebrazione della fine di un percorso e quindi l'inizio di qualcosa d'altro, no? Quindi mettere la fine al lavoro e iniziare, come dire, a godere un po' dei frutti di questo lavoro, per cui la pubblicazione. E avevo proprio l'esigenza di fare questo, era un'esigenza che era maturata in me e lo volevo fare a Trieste, volevo fare questa cosa a Trieste perché è la mia città, perché ci sono molto legata, però non l'ho mai visto una cosa che portava via qualcosa ad altro, ma anzi aggiungeva, no? Volevo dare spazio anche proprio a un festeggiamento con chi avesse voluto dividere questo desiderio con me. Allora, durante le settimane passate mi sono arrivate anche un po' di, cercherò di dirlo in maniera carina, ecco, mi sono arrivate anche un po' di voci. Alcune persone hanno parlato direttamente con me, altre invece mi sono state riportate e io, devo dire sinceramente, ho apprezzato molto di più le persone che sono venute a parlarmene. E che cosa dicevano queste voci? Perché secondo me parlarsi di persona è sempre meglio, no? A me sentire le voci non piace tanto, a me io apprezzo molto di più le persone che vengono a parlare direttamente con me, così ci si può confrontare e si può parlare. A queste persone che sono venute a dirmi Valentina, bella l'idea dell'evento, però sai, intanto sei a Trieste, Trieste è, come sappiamo, sono le lande dimenticate del nord-est. Noi lo sappiamo che siamo ai confini di tutto, eravamo prima ai confini dell'impero, adesso siamo ai confini dell'Italia, un po' dimenticati, due ore da Venezia, per cui insomma siamo proprio all'estremità, no? È difficilmente raggiungibile, io questo ne convengo. Però appunto ecco perché hai voluto fare questa cosa, siamo un po' restate male perché è un evento un po' esclusivo, hai detto che era a numero chiuso. Allora io volevo dare una piccola spiegazione, come ho dato alle persone con cui poi ho parlato in privato, volevo approfittare anche del fatto che siamo in diretta e lasciare un po' una testimonianza che poi magari possa restare. Allora la ragione per cui l'ho voluto fare, l'ho spiegata prima, per dare un po' un punto e festeggiare con chi avesse voluto farlo con me dal vivo. A Trieste perché non avevo modo di farlo da altre parti, se devo essere sincera, volevo organizzare io la cosa e lo potevo fare solamente nella mia città. Non è colpa mia se abito a Trieste, per cui l'ho fatto qui perché abito qui e non avrei potuto farlo, mi sarebbe piaciuto farlo da altre parti, più centrali magari tipo Milano, tipo Firenze, che sono più raggiungibili, magari anche Bologna, sono città nelle quali si arriva molto facilmente con il treno e si riparte magari anche in giornata. Ma non ho potuto farlo perché volevo fare in modo che fosse una vera festa, per cui con le passeggiate in città, con le visite ai caffè, insomma, e lo potevo fare solamente nella città in cui io poi vivevo. Ho organizzato tutto io, volendo tenere il costo più basso possibile per le persone che poi venivano qua e non mi sono appoggiata a nessuna agenzia, nessuna guida, non ho avuto nessun aiuto, quindi ho impiegato tanto tempo e mi sono informato, preso i contatti, e tutto questo per mantenere il prezzo molto molto basso in modo da non gravare appunto sulle persone. Quindi è per questo che il numero delle persone che potevano partecipare è sempre stato detto era limitato. Limitato perché io non sono un'organizzatrice di eventi di professione e quindi sapevo che potevo stare dietro, come dire, potevo avere sotto controllo la situazione solamente con un numero limitato di persone. Devo dirvi, però, sono molto onesta con voi, pensavo che sarebbero venute meno persone e da un lato sono molto contenta, dall'altro ero molto spaventata perché io avevo messo un limite a 30 persone e non è stato possibile mantenerlo così basso. Io pensavo fossero 30 perché ho detto a Trieste chi vuoi che venga, invece in realtà le persone sono di più e abbiamo chiuso a 40, quindi sono fuori di 10 persone. In pratica sono 10 persone in più. Però le persone che si sono iscritte all'ultimo non me la sono sentita di dire di no e quindi ho alzato il numero arbitrariamente. Così spero di essere in grado di fare tutto per benino come mi ero messa in testa. Poi ovviamente alla fine ho detto no basta, 40 è finito e boh. Ed è stata una grande gioia per me fare questo e io spero veramente che poi tutto questo piaccia. Ma volevo arrivare al punto che mi è un po' dispiaciuto sentire che le persone erano un po' restate male per questo perché magari non avevano potuto partecipare per la lontananza magari comunque pur essendo prezzi bassi magari comunque per una questione economica. Ecco però io vorrei dire solo una cosa che non è un evento obbligatorio io ne ho tanto parlato perché per me era un modo per condividere come vi ho detto sono noiose quindi mi ripeto la fine di un qualcosa e l'inizio di un'altra. In realtà la parte più importante di tutto questo è la pubblicazione del libro. L'evento non toglie nulla alla pubblicazione del libro ma semmai la aggiunge. Ecco non è una cosa che... E per fare in modo di essere più inclusivi possibile e far partecipare in un piccolo modo anche chi non ha potuto venire ho pensato che appunto il sabato mattina vi do questo annuncio magari non è proprio una sorpresa perché chi mi segue su Instagram e su Facebook magari lo sa già però nella mattina di sabato proprio al momento dell'apertura diciamo del workshop che noi faremo al Caffetto Maseo che è uno dei caffè storici più importanti della mia città io pensavo di... anzi pensavo farò perché oramai è deciso una piccola diretta proprio qui su YouTube in modo da condividere questo momento anche con chi non può essere presente di persona ma lo fa indifferita per cui magari sto pensando a tutte le ragazze del Sud che hanno difficoltà a raggiungere Trieste e quindi insomma ho pensato che magari si può condividere questo momento e poi questa diretta può restare allora anticipo che non sarà una diretta lunghissima nella diretta vi farò vedere dove siamo vi farò vedere adesso vedrò un momento se avrò il permesso di filmare le partecipanti e quindi vi farò vedere magari un po' l'ambiente un po' le partecipanti sempre che loro siano d'accordo quindi questo lo mettiamo con un piccolo punto di domanda perché questo non posso decidere per gli altri e vi posso far vedere appunto la location come vi ho detto e soprattutto anche la prima presentazione del libro in generale di cosa parla di cosa parlerà mai un libro di Modellia Maglia però comunque di parlare un pochettino del libro in generale che cosa ci sta dietro come siamo arrivati a questo anche se oramai ho detto un po' tutto e sfogliarlo velocemente insieme per cui una ventina di minuti di diretta di sabato 11 maggio ecco grazie Daniela che puntualizzi l'ora e la giornata sabato 11 maggio non so dirvi esattamente l'ora ma sarà sicuramente dalle 10 in poi perché il workshop inizierà alle 10 poi naturalmente noi termineremo la diretta in quel momento e poi noi in presenza continueremo a festeggiare per tutta la giornata e poi la sera eccetera e il giorno dopo eccetera e avremmo già cominciato prima però insomma ecco spero di riuscire a fare un piccolo vlog perché mi resti anche un pochettino il ricordo dopodiché ho in mente per voi naturalmente che questa cosa non sia fine a se stessa per cui per l'evento dell'uscita del libro vero e proprio vorrei appunto raccontarvi un pochettino come andrà dopo no? ecco per cui il libro sarà pubblicato il 14 maggio quindi devono stare a scrivere cose allora il libro essendo pubblicato proprio il martedì 14 maggio la sera del martedì 14 maggio io vorrei fare la diretta per sfogliarlo insieme e per farlo vedere meglio la vorrei fare su Instagram no? perché sapete che le dirette lì sono molto veloci e poi conservarla no? come conserverò questa live su YouTube tutte queste cose io le vorrei conservare in modo che restino anche un pochettino come ricordo per me per voi insomma da consultare in caso di bisogno come dire no? ecco quindi il martedì sera io vorrei proprio fare una bella diretta una live su Instagram e quindi guardarcelo bene poi su YouTube ci sarà sicuramente il venerdì il video su YouTube dove appunto vi racconto tutto con calma più serena tranquilla vi faccio vedere il libro meglio e se ne parla perché poi in tutte queste cose live come dire l'emozione è sempre tanta quindi tante cose vengono anche un pochettino tralasciate no? cioè mi dimentico di dire perché non è che ho nulla di scritto sapete che io sono spontanea però magari mi lascio un po' trasportare e un po' mi confondo le cose mi scappano di mente mi dimentico di dire le cose perché sono vecchia eccetera eccetera per cui su YouTube ci sarà il video che poi resta per sempre e vorrei parlarvi di una cosa che secondo me è abbastanza importante allora intanto voglio farvi vedere il retro del libro vorrei arrivare almeno a 20 pollicioni per far vedere la copertina del retro del libro però io vedo 18 se arriviamo a 20 vi faccio vedere il retro del libro la copertina vedo una si è convinta 19 vediamo però pollicione Rosanna però non l'hai messo nel cioè bisogna cliccarlo qua sotto ragazzi dovete 24 perfetto improvvisamente ok retro del libro allora con questo colore pazzesco no non poteva che essere questo è lo stesso colore di di carten no di muia cioè sono quei colori là sono i colori i colori miei no ecco per cui così allora se lo vedete di là che non si veda troppo se lo vedete di lato è grosso ragazze è grosso è un chilo di libro è un chilo un chilo è qualcosa di libro allora perché ve l'ho voluto far vedere per farvi vedere che è grosso che è grosso e che dentro ci sono ragazze 20 modelli 20 sono 20 pattern sono è una quantità mostruosa cioè 20 ok sono tanti sono tanti il prezzo allora tanto dove lo troviamo lo troviamo su amazon e e e quindi link dappertutto sempre e su ravelry sarà disponibile su amazon la versione cartacea questa e cioè il libro vero e proprio su ravelry sarà disponibile sempre la stessa versione uguale identica ma digitale digitale non stampabile come muia ok come muia uguale identico ovviamente costerà un pochettino di meno non tantissimo perché sono 20 modelli rispetto sono 20 modelli non c'è la prevendita grazie angelica per averlo chiesto perché semplicemente non so come si fa su amazon e quindi esce solamente cioè però io l'ho programmato in uscita il martedì 14 e dovrebbe essere per forza martedì 14 in vendita io mi voglio fidare ecco ma insomma non lo trovo più questo pollicione mi hanno cambiato la grafica lo so hanno cambiato la grafica anche a me ma va bene così ecco allora il prezzo ve lo dico già adesso la versione cartacea sarà 40 euro ok 40 euro su amazon quella digitale sarà ovviamente di meno adesso non mi ricordo ma sarà attorno ai 30 ok e io mi rendo conto che non è un prezzo bassissimo ma ho cercato di essendo un'autopubblicazione io non ho potuto fare meno di così perché perché semplicemente ci sono dei costi fissi che sono la carta le grafiche i colori per le foto eccetera 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 che stabilisce amazon e quindi io non ho non ho potere di dire lo voglio mettere ad una certa cifra ancora più bassa perché meno di una certa cifra non si poteva mettere ma ma la mia idea questa volta è di fare una cosa ancora più accessibile allora da questa volta cioè con questo con questo libro saranno disponibili da una settimana dopo l'uscita del libro pian pianino tutti i pattern contenuti nel libro saranno disponibili anche come pattern singoli questa è la grande novità di questa volta ed è per questo anche perché ci sto lavorando tanto perché ogni pattern sarà del libro sarà trattato come pattern singolo per cui io sto facendo i video per tutti e 20 i pattern e quindi sono 20 settimane 20 settimane di pubblicazioni singole di pattern quindi ogni venerdì dalla settimana dopo della settimana in cui viene pubblicato il libro pian pianino saranno pubblicati tutti quanti i pattern allora lo dico adesso a scanso di equivoci i pattern non saranno i pattern del libro come il libro digitale oppure cartaceo non saranno mai messi in sconto questo ok ma sicuramente se uno vuole comprarsi un pattern solo gli costa meno del libro sicuramente se uno ha già piacciono 5 pattern gli conviene prendere il libro perché il pattern singolo comunque costa il prezzo solito che sono 7,50 euro più IVA per cui alla fine se gli ne piacciono già 5 gli conviene prendere il libro ma ognuno ragiona con la testa per cui ecco ci saranno quindi 20 settimane di pubblicazione di di questi pattern per cui anche chi non vuole acquistare il libro tutto intero potrà acquistare i pattern che più gli piacciono e troverà praticamente le stesse cose che sono nel libro cioè come pattern ovviamente ecco e questo per cercare di venire incontro veramente a tutti no perché quello che mi è stato molto criticato le volte scorse era che non mettevo i pattern singoli ma il libro era acquistabile solamente tutto intero no ecco io in effetti all'inizio vi devo dire la verità che quando ricevevo questo commento in passato un paio di volte mi sono anche un pochettino seccata me la sono un po' presa ho detto ma come però poi in realtà ci ho pensato e ho detto però sai che c'è hanno anche ragione perché non è detto che a tutti debba piacere tutto il libro intero magari a una persona piace un pattern o due e allora perché no perché no alla fine diciamo che la pubblicazione di questo libro io veramente chi mi conosce da tanto tempo soprattutto le tester e le persone a me molto vicine sanno che ad un certo momento io ho detto basta io non ne posso più di questo libro ci sto lavorando da anni anni io non ne posso più basta pubblico tutto così e le persone che mi sono state molto vicine in quel momento ma tu sei pazza devi andare avanti perseguire tenere duro e creare sto benedetto corpus unico perché il corpus unico però ha un senso a chi piace il corpus unico a me piace l'idea del libro ce l'ha anche anche per me soprattutto per me però giustamente non è detto che tutti debbano avere la mia stessa idea io lo faccio perché è un tutt'uno no ecco però mi sembra giusto che se le persone qualcuno ne ama uno due tre quattro li prenda separatamente perché no anzi secondo me è anche molto positivo così inoltre inoltre e dal momento che sono dei capi molto stagionali sono dei erica erica è una delle persone che mi ha convinto a non mollare a continuare e questo qua stiamo parlando di un annetto e mezzo fa quando c'è stato il momento di grande crisi ecco e poi alla fine c'è stata questa grande concentrazione e siamo arrivati alla fine per cui adesso che lo vedo così tutto intero non mi pare vero mi sembra una cosa meravigliosa e non ho mai fatto nulla di così bello e ci sono tante novità dentro questo libro perché ci sono delle cose che c'erano in muia ma ci sono delle cose in più delle cose modernissime nel glossario e all'interno dei pattern stessi ci sono delle cose super moderne ci sono i consigli sul filato che c'erano anche in muia ma ci sono delle cose altre molto altro molto altro che rendono i pattern ancora più comprensibili almeno credo ecco ancora più fruibili ancora proprio ho cercato di arrivare quasi all'impossibilità di sbagliare no di essere confuse no ecco una cosa che diciamo mi si dice spesso e io ne sono molto contenta perché ci ho lavorato tanto su questa cosa per arrivare a questo risultato è che i miei pattern sono molto comprensibili no sono spiegati molto bene sono molto lunghi ma sono spiegati molto bene io su questa cosa lo sapete quanto ci tengo cioè ci tengo proprio che siano che non ci possa essere un fraintendimento una per questo ci tengo a scrivere tutta la riga tutto il ferro tutto il giro ripetere ancora eccetera con questo con questo io credo di essere arrivata all'apoteosi tanto che i pattern che sto lavorando dopo questo libro sono fatti su questa falsariga quando vedrete il libro capirete e direte era questo che voleva dire Valentina e capirete perché ho detto che sarà molto difficile sbagliare d'ora in poi prima era molto difficile adesso ancora più difficile sbagliare ancora più difficile perdersi ancora più difficile non capire che cosa sta succedendo e ovviamente all'interno dei pattern ci sono anche dei consigli per la personalizzazione per cercare di personalizzare un pattern a seconda di quello che vogliamo fare noi l'anno scorso per il mio compleanno ho ricevuto muoia scontrosa grazie a carten un 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 plan ecco ecco per cui insomma diciamo che questa sera volevo un pochettino raccontarvi quello che sto facendo in quest'ultimo periodo ed è un lavorone perché fare 20 pattern 20 video di presentazione non è semplice perché non è come una diretta che sono qui chiacchiero con voi ci vogliamo bene e parliamo di tutto di più sono dei pattern che poi vanno editati devo essere attenta di aver detto tutte le cose ci sono dei video che non ho fatto bene quindi ho dovuto rifare insomma ecco sembra una cosa un pochettino da niente ma in realtà è abbastanza impegnativo e poi per ogni pattern ho parlato un po' dell'abbinamento con dei capi che possiamo avere nel nostro armadio giusto per dare un'idea e ho cercato di non essere nemmeno troppo prolissa quindi di fare dei video brevi perché tutti si stufano se i video sono troppo lunghi di spiegazione dei pattern ma poi devo parlare anche del filato e dovevo ringraziare alcune aziende alcuni negozi e capirete perché se poi li vedrete quindi io spero che voi li guardiate questi video sinceramente perché mi sono costati un sacco di fatica mi stanno costando un sacco di fatica e di lavoro perché non li ho ancora finiti ed è per questo che oggi siamo qui e non c'è un video capito e non ci sarà un video fino a quando non finirò questi benedetti video per i pattern e ci sarà una pausa di questi video in agosto ovviamente perché in agosto ragazze è inutile che io vi pubblichi in agosto dei video e io pubblichi i pattern in agosto che nessuno o quasi lavora la maglia in agosto quindi ci saranno due o tre non mi ricordo quante settimane di pausa e poi si riprenderà un pochettino dalla non dall'autunno ma insomma diciamo verso la fine di di agosto inizio settembre ma questo qua insomma è una pausa diciamo secondo me abbastanza fisiologica no ecco e vi volevo dire anche qualcosa d'altro ma adesso non mi ricordo ah sì allora comprendo capisco che magari pensare di affrontare un 20 settimane di video solamente che trattano dei pattern potrebbe forse essere un po' noioso per voi no ecco allora vorrei fare un patto con voi allora anche io stessa non posso pensare di non fare video per 20 settimane impossibile no allora io facciamo un patto ogni tanto pubblicherò un video extra no un video extra cosa vuol dire che il video del venerdì sarà sempre quello con il pattern e poi magari tipo di martedì o di mercoledì qualche volta pubblicherò un video con un contenuto extra che potrebbe essere un it in time come faccio di solito oppure un video non so monografico su qualche filato che vi piace oppure insomma è differente i miei soliti video del canale come li faccio di solito però li dovete guardare tutti cioè non dovete guardare solo i video extra dovete guardarmi anche quelli con la presentazione del capo perché ci ho lavorato tantissimo quindi fatemi questo regalo guardatevi video anche quelli del anche perché io penso che il video comunque anche se se uno compra il libro comunque poi guardarsi il video comunque ti dice delle cose in più comunque perché parlo anche di altre cose degli abbinamenti delle cose e poi sotto nei commenti si può discutere se ci sono delle domande io posso rispondere è molto più interattivo no ecco allora vedo che mi state rispondendo brave promettetevi questa cosa perché per me è importantissima ok ecco quindi faremo un po' e un po' non riuscirò sempre a ogni settimana fare due video ma ne farò diversi ecco di sicuramente di sicuro farò questa cosa bravo promesso brava 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 stefania brava daniela vedo manine incrociate polliccioni bravissime bravissime così si fa fatemi contenta eccolo guarderò di sicuro tutta la community di cosciani vestita certo inoltre durante quello che stavo per dire prima ma poi ho cambiato discorso e non sono arrivata dove volevo arrivare è questo dal momento che sono pattern molto stagionali saranno oggetto se lo desidererete anche di workshop cioè la famosa giornata online per dare il modo anche e soprattutto a chi magari non è potuto intervenire o venire al evento di maggio ma anche chi c'è stato ovviamente è invitato anche lui non è un problema fare degli workshop su alcuni capi magari particolarmente apprezzati da qui all'eternità questo perché per me sono tutti belli ovviamente però poi ci saranno quelli che saranno più amati quelli meno amati come sempre e magari quelli che piacciono di più a me magari non se li filerà nessuno e invece quelli che sono che io dirò a dire la verità a me piacciono tutti per cui ecco e per cui se voi lo desidererete se io avrò richieste da parte vostra naturalmente potremmo fare gli workshop e gli workshop li faremo nel solito modo su zoom così saranno disponibili a chiunque di voi vorrà intervenire perché farli su zoom darà la possibilità a chiunque di voi di partecipare no? perché lo si può fare da da qualunque parte no? e sono sempre state cioè questa cosa è sempre stata molto apprezzata da tutti perché la possiamo fare dovunque siamo no? ecco non importa dove ci troviamo ma è importante poi stare insieme no? e durante il workshop naturalmente non sarà un workshop di tutta la giornata saranno workshop brevi nei quali noi parleremo molto approfonditamente del capo che viene scelto e quindi ancora di più parleremo delle costruzioni perché parlo al plurale della costruzione della particolarità dei consigli su come realizzare un certo passaggio delle criticità e di magari le parti invece che sono più semplici di abbinamenti di sostituzioni di filato di personalizzazioni eccetera 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 per cui insomma saranno come sempre dei momenti di approfondimento e di lezioni intensive di maglia come sempre insomma ecco però avremo alle spalle o un libro o un pattern singolo ed ecco anche perché l'idea del pattern singolo perché se uno non desidera acquistare il libro può acquistare anche il singolo pattern oggetto del workshop magari così ecco e poi sicuramente all'interno della big family ci sarà la possibilità di fare i cal a destinazione no come dire su un singolo progetto del c'è un singolo pattern magari tratto del libro sempre anche su vostro suggerimento e su vostra richiesta perché vorrei venire incontro ai vostri desideri e a proposito di questo vorrei parlarvi di questa piccola cosa che se voi non mi parlate non mi dite le vostre i vostri desideri le vostre intenzioni quello che vi piacerebbe fare quello che vi piacerebbe che trattassimo sulla big family ma anche io con le rubriche tipo oggi la big family parla di su instagram eccetera eccetera io non posso leggervi nella mente e indovinare quello che voi volete perché vi dico questo perché ultimamente ho avuto la sensazione che ci fosse una certa un po' passività ecco cioè poche domande poche interazioni pochi pochi commenti di scambio no? come dire e e quindi se io non vedo nessun commento nessuno scambio nessuno mi fa domande o mi suggerisce qualcosa io penso che vada tutto bene così o che magari state pensando ad altro avete le vostre cose il che ci sta va benissimo però non sento un come dire un uno stimolo di parlare di qualche cosa in particolare per cui vi prego vi stimolo a interagire e a chiedere se volete qualcosa in particolare se avete un suggerimento se desiderate che si tratti qualcosa in particolare perché magari non riesco a trattarlo proprio nell'immediato perché magari mi devo informare mi devo devo studiare un momentino però quello che voi mi dite io lo ascolto sempre e il libro è la dimostrazione di questo perché il libro non sarebbe potuto nascere senza la big family e soprattutto la versione definitiva del libro non sarebbe nata perché io ho captato certe cose la lista dei capi era molto diversa all'inizio da come è diventata io ho captato ho ascoltato quello che si diceva in giro e attraverso le vostre parole io ho capito che certi capi era meglio non inserirli e invece inserire magari qualcosa d'altro non so se mi sono spiegato non c'è più nessuno sono tutti scappati nessuno scrive più niente oddio ho toccato male sto guardando i commenti bene angelica mi dice che ci siete anche debora e che appunto ogni tanto se non leggo i commenti non non capisco se ci siete oppure no bene è troppo bello ascoltarti ecco allora questa cosa del religioso silenzio che mi ascoltate io non pensate che non apprezzo apprezzo moltissimo ma appunto come si diceva parlate anche voi fatevi sentire portate la vostra voce perché la cosa che mi fa più felice in assoluto la Valle Camonica ti sta seguendo ma lo sai che ho fatto una gita scolastica in Valle Camonica abbiamo anche imparato noi della Val Camonica noi suoneremo l'armonica e io cantavo ecco allora ecco allora torno al c'è stata una digressione per la Val Camonica io apprezzo che voi mi ascoltiate io sono molto felice ma la cosa che mi fa ancora più felice è avere uno scambio un'interazione perché io non mi sono mai reputata la maestra che spiega alla classe no io ho sempre ho sempre detto che io non sono una maestra di maglia no gli workshop saranno in base alla richiesta o la stagionalità ecco questo è una domanda che io potrei girare a voi gli workshop che faremo tratti dal libro se voi lo desiderate li vorreste stagionali oppure ah bravo ecco una bella domanda cosa intendiamo con capi stagionali hai ragione io non l'ho spiegato questo libro perché è così grosso perché ci sono 20 capi ok ma non ho detto vedete perché è importante fare i video come si deve e non le direte così alla paccianca il libro ha 20 capi e questi capi sono divisi in stagioni per cui ci sono i capi fondamentali nel guardaroba della niter per l'inverno per l'autunno per la primavera per l'estate ecco perché parliamo di stagionalità no ecco perché non fai qualche schema per i ferri lineari all'interno della raccolta ci saranno ci sono dei capi che si possono realizzare anche per i ferri lineari io non allora in realtà non lavoro con i ferri lineari e quindi non disegno per i ferri lineari perché è un tipo di strumento che a me non è più congeniale perché è molto limitativo il ferro circolare tiene molti più punti e quindi per me è molto meglio e mi permette di lavorare in tre dimensioni cosa che il ferro lineare non me lo non me lo consente e quindi prediligo il ferro circolare tuttavia all'interno del libro ci sono dei capi che sono realizzabili anche con i ferri diritti magari un po' più lunghi magari quelli lunghi da 60 cm questo sì ecco ma è possibile sicuramente lavorare diversi capi con i ferri diritti e quindi dicevo sono quattro stagioni e questa è la stagionalità e vedo che allora farai tour di presentazione del libro nelle diverse città allora mai dire mai ti ringrazio per ora non ho avuto nessuna richiesta l'unica presentazione che farò sicuramente di questo libro sarà a Firenze in occasione del festival NIT Italia in ottobre credo alla fine di ottobre e quindi quella sarà l'unica per ora presentazione fissata che è già stata fissata perché ho parlato già con l'organizzazione ho fissato il mio slot e sicuramente ci sarò e ci saranno posso anticiparlo le Knitter Girls come la volta scorsa fino alle Ligure e faranno sfoggio della loro bravura come modelle e ho detto tutto e ci saranno tutti i capi del libro ci saranno i libri ci sarà tutto quello che che volete ecco quindi quella sarà un'altra occasione per vederci nel nel frattempo naturalmente se riceverò delle proposte di presentare il libro in altre città io sono sempre disponibile a spostarmi compatibilmente con la distanza compatibilmente con con tutto e e quindi vedo che mi interessa più la stagionalità piuttosto che la richiesta del capo quindi si potrebbe fare una cosa uno e uno all'interno della stagione si potrebbe scegliere il capo da lavorare tipo all'interno della primavera si sceglie il capo primaverile poi all'interno dell'estate scegliamo il capo estivo eccetera eccetera ecco questo qua sicuramente potrebbe essere una una buona idea per seguire la stagionalità per scegliere i capi per call workshop o workshop si potrebbe scegliere tra 3 e 4 sì beh i capi sono di più di 3 e 4 per ogni stagione basta non posso dire altro sì ecco sì penso che Cristina abbia inteso di dire la stessa cosa che dicevo che avevo detto io insomma e insomma ragazze sono molto emozionata quando avremo il libro decideremo ma abbiamo bisogno del libro certo dopo il 14 intendevo che ce ne proponiamo 3 e 4 e poi votiamo sì certo mi sembra che abbiamo spoilerato abbastanza certo un'altra cosa Stefania ok attendiamo la domanda di Stefania della Valcamonica ricordi anche per filo e per segno io c'ero incantata dalla tua maglia a tieme incisioni bellissima ah sì è vero mamma mia che ricordi ragazzi sì ho partecipato con un mio capo a per filo e per segno era una mostra e a tema arti tessili perché non c'era solo maglia ma c'era uncinetto tessitura ricamo un po' di tutto e io ho partecipato con un maglione nel quale proprio ho rappresentato le incisioni rupestri della Valcamonica mi sono divertita moltissimo a lavorarla ovviamente non c'è pattern non c'è niente un capo unico però mi sono divertita moltissimo e peccato perché è stata fatta durante il covid quindi io non sono potuta andare nessuno è potuto andare solo pochissimi della zona per cui è stato un vero un vero vero peccato perché io altrimenti sarei andata quel maglione te lo sei tenuto per te certo su 20 capi allora se 20 capi li dividiamo per 4 stagioni ci saranno 5 capi per stagione allora posso dirvi vabbè questa cosa ve la spoiler allora in teoria chi è stata a dire Adriana ha ragione in realtà ci saranno 2 stagioni con 5 capi una stagione con 4 e una stagione con 6 capi capirete anche quale ha 4 quale ha 6 e quali hanno 5 se ci pensate un momentino quel maglione ti sei rifiutata di scrivere il pattern sì perché era troppo difficile oddio aiuto allora Stefania io sono una principiante ma con un po' di esperienza ma sicuramente ho tanta passione per la maglia i tuoi capi sono complicati per me dipende quali capi in generale e allora intanto principianti non si resta mai per sempre si diventa anche pian pianino più bravetti poi ci sono capi semplici e capi più complicati io ti consiglio di andare a vedere due video che ho fatto che si chiamano i miei capi più difficili e i miei capi più facili una cosa del genere all'interno del libro ci sono capi per tutti i gusti ma anche per tutte le capacità una delle novità è che sono contrassegnate i capi sono contrassegnati da stelline per cui da uno a quattro stelline quattro è capi complicati c'è tutta una leggenda ho detto un po' troppo questa volta va bene però per cui ci sono capi anche con due stelline che sono capi fattibilissimi da una principiante volonterosa o di media di media difficoltà ma media media bassa difficoltà ecco ce ne sono diversi quindi assolutamente sì e ci sono anche capi con quattro stelline belle belli tosti la stagione con sei sarà inverno io non ho detto niente questo l'ha detto Daniela il grado di difficoltà è molto utile ok come le ricette sì ok Deborah basta mi dice che sto parlando troppo bene allora ragazzi abbiamo passato l'ora sappiamo che youtube ogni tanto si arrabbia con i video che hanno hanno passato l'ora e non li fa salvare e io direi che dal momento che mi piacerebbe che questa diretta restasse anche così per vederla anche in futuro per vedere cosa succedeva un mese prima della pubblicazione perché siamo un mese prima ragazze cioè sembra domani ecco è domani praticamente è un mese prima della pubblicazione e io non vedo l'ora amiche non vedo l'ora e quindi io direi che potremmo concludere qua adesso vedo nella chat se ci sono delle domandine dopo rispondo allora le stelline sono state calmierate dalle tester certo abbiamo fatto una media di cosa ne pensavamo tra di noi con le tester e quindi non è una decisione mia arbitraria di come mettere queste stelline ma è stata fatta in più persone no cara cinzia grazie mille luisa mi dice ciao anch'io sono una principiante ma con tanta passione concordo che il grado di difficoltà è molto utile benissimo sono molto contenta bene 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 sfiderò me stessa con uno da quattro stelle ma tu Leslie oramai sei rotta ad ogni esperienza ti direi le tue spiegazioni accompagnate dai video tutorial ci per me grazie grazie Cristina abbiamo aspettato anni un mese vola grazie Maria allora io veramente sono vi ringrazio vi ringrazio tanto di aver partecipato a questa diretta e io vi do appuntamento allora adesso non lo so il prossimo venerdì io dubito che ci sarà un nuovo video perché come vi dicevo devo terminare la mastodontica mole di cose che ho da fare ancora perché comunque insomma devo fare diverse cose ancora ecco però però e che tutti i contenuti che sto studiando per instagram per tutto per il blog per facebook eccetera eccetera sono tante cose no? faccio tutto da sola e quindi il tempo ahimè è tiranno vediamo il prossimo venerdì quindi penso che ci prenderemo un po' una pausa e ci teniamo aggiornate su instagram se a voi piace se a voi piace l'idea della diretta potremo replicare la diretta anche la prossima volta magari non so mi proponete qualche argomento in particolare su instagram o su facebook o via messaggio privato come come preferite altrimenti ci prendiamo magari una pausa e ci vediamo più più in là io vi mando un bacione grazie mille e vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video non so quando ma arriverà oppure alla prossima diretta ciao me